Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il cantante Neck ha accompagnato Martina, figlia della sua moglie Patrizia Vacondio, avuta da una precedente relazione all'altare insieme al padre biologico della ragazza. Nonostante abbia una figlia di 13 anni con la moglie Beatrice, Neck ha sempre avuto un legame speciale con Martina, nonostante non sia sua figlia biologica. Così, nel giorno del matrimonio, Martina è stata accompagnata all'altare da due padri, quello biologico e quello acquisito. Neck, nome d'arte di Filippo Neviani, ha condiviso su Instagram un video emozionante in cui si vede Martina entrare in chiesa insieme ai due padri. Nella descrizione del video il cantante ha raccontato, commosso il momento, accompagnare Martina per un breve tratto verso l'altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei, piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato. Il cantante ha ringraziato in silenzio per la presenza di tante persone care durante la cerimonia, tra cui la bisnonna dello sposo, che ha 101 anni. Neck ha definito l'esperienza un privilegio e una vera grazia, sottolineando che una nuova famiglia è nata sotto gli occhi di Dio e di tutti i presenti. La presenza di Neck e del padre biologico di Martina all'altare ha reso il matrimonio un momento ancora più speciale e toccante.